Ciao a tutti, oggi proseguiamo nel viaggio introdotto nel video precedente relativo all'importanza della validazione di un'idea perché validare un'idea è decisivo ma soprattutto quello che andremo a capire oggi è quali sono i 4 step, macro step legati alla validazione dell'idea allora partiamo da un concetto molto importante che significa validare un'idea ci possono essere diverse affermazioni a riguardo per rispondere a questa domanda a me piace la seguente, validare un'idea significa capire se questa idea sostanzialmente ha mercato dietro questa frase si ce l'ha un intero processo ma il discorso qual è? noi dobbiamo andare a realizzare un qualcosa che possa essere sostenibile ricordiamoci sempre qual è l'obiettivo l'obiettivo è sempre quello di avere degli strumenti un mindset delle procedure da seguire per costruire dei progetti sostenibili progetti sostenibili come sapete cosa significa? significa che hanno determinati costi, hanno determinati ricavi e banalmente i ricavi complessivi superano i costi un grande concetto legato ai ricavi ne parleremo in un video a parte è la distinzione tra ricavi diretti e indiretti ora nello step successivo del video andremo a capire inizieremo a capire cosa intendo con questa affermazione validazione dell'idea il primo macro step relativo a questo processo è strutturare l'idea voilà cosa significa strutturare l'idea? cosa significa avere un'idea e imparare a strutturarla facciamo un esempio l'esempio dell'altra volta l'idea posso avere l'idea di voler produrre un disco in un genere e in genere solo per richiamare l'esempio identico cosa significa strutturare questa idea? se questa idea di base è destrutturata appunto cioè è un diciamo un'idea iniziale che ha bisogno di essere analizzata e descritta più in dettaglio banalmente se io dico voglio fare un disco nel genere solo e un mio interlocutore mi dice spiegami meglio ecco che la risposta deve essere una descrizione più dettagliata dell'idea e questo è un aspetto molto molto importante molto importante perché all'interno del del nostro percorso noi effettuiamo questo step all'interno dell'analisi progettuale una delle domande importantissime da farsi all'interno di 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 questa di questo percorso della validazione l'idea è qual è il fine di questa idea ad esempio voglio produrre il disco ma con quale fine come posso monetizzare quando prima vi parlavo di ricavi diretti indiretti è perché ad esempio dei professionisti che eseguiamo quella percentuale di cui parlavo nel video precedente che riesce a costruire dei progetti sostenibili lo fa proprio perché effettua un corretto processo di validazione dell'idea e all'interno di questo processo nell'esempio della produzione di un disco magari mediante un certo tipo di analisi ci si rende conto che il disco può produrre dei ricavi indiretti e non diretti che significa che magari quel disco può servire per ad esempio erogare un determinato tipo di servizio quindi all'interno di strutturare l'idea noi possiamo ragionare capire se quello che dobbiamo andare a implementare debba avere la natura di prodotto o la natura di servizio quindi ad esempio l'album di turno può essere un prodotto che a noi può servire all'interno di un progetto più ampio legato più magari a una dimensione di servizio e così via ok quindi strutturare l'idea significa questo cioè dire ok io faccio l'album ma banalmente la prima domanda perché voglio fare l'album secondo come ci posso guadagnare terzo cosa può veicolare e così via quindi si segue un intero iter abbastanza corposo che porta a un report complessivo particolarmente dettagliato di analisi progettuale questo report ci permette di capire se l'idea è effettivamente strutturata o meno se non lo è andiamo a strutturarla cosa succede che una volta che noi abbiamo un'idea strutturata lo step successivo il macro step successivo si chiama analisi di mercato ricordiamoci sempre che l'obiettivo di questo processo è quello di costruire un progetto musicale imprenditoriale quindi noi dobbiamo diventare voi dovete diventare degli imprenditori musicali ok questo step è decisivo uno non può saltare un imprenditore non può saltare l'analisi di mercato perché perché l'analisi di mercato ci permette di andare a intercettare le esigenze del mercato cosa significa intercettare le esigenze del mercato prendiamo sempre facciamo l'esempio del disco io il disco posso capire magari se vi è un mercato specifico quindi mercato ma non tutto il mercato musicale mercato specifico che può permettere di monetizzare da quel disco che caratteristica quel mercato se è un mercato che mi permette di avere dei ricavi diretti o indiretti quindi utilizzando queste logiche di prodotto servizio e così via quindi l'analisi di mercato a cosa serve serve a capire se la nostra idea che in precedenza abbiamo strutturato quindi è passata da un'idea destrutturata a un'idea strutturata va ad intercettare delle esigenze di mercato ed è un processo abbastanza complesso perché già vi ho fatto l'esempio del disco potrei farvi tantissimi altri esempi io sono un produttore voglio monetizzare come producendo gli artisti creando dei progetti che mi permettono di veicolare alcune tipologie di competenze quindi l'analisi di mercato è molto importante perché prima di tutto io devo ricavare una identificare una nicchia ben specifica del mercato ci sono i grandi i grandi consulenti di strategia che dicono sempre che la componente più difficile è individuare una nicchia un identikit esatto che ha determinate esigenze perché se tu riesci a riconoscerla anche non avendo magari una comunicazione straordinaria una strategia straordinaria puoi ottenere già grandi risultati figuriamoci con una diciamo una struttura organizzata di marketing di comunicazione dove puoi arrivare ok quindi questo step in realtà è un macro capitolo che al suo interno si divide in tanti sottocapitoli e andremo ad analizzarlo nei video successivi qual è lo step successivo step successivo è analisi dei competitor anche qui io in primis in passato ed è stato molto difficile devo ammettermi è stato molto difficile comprendere appieno il significato di questo step io in primis in passato dicevo e tantissimi nostri clienti vediamo che abbiamo tutti lo stesso problema andare a riconoscere i competitor una frase che spesso compare all'interno viene pronunciata all'interno delle consulenze io credo è la seguente cioè uno dice io credo che per la mia idea di progetto per il mio progetto non ci sono dei veri e propri competitor perché nessuno fa un progetto di questo tipo questo è un grande errore perché i competitor innanzitutto ci sono dei competitor diretti e competitor indiretti e questo è un tema da approfondire molto importante quindi ci sono dei competitor che possono essere che possiamo percepire particolarmente vicini alla nostra idea imprenditoriale e altri che magari possiamo percepire più lontani ma magari vanno ad aggredire il nostro stesso mercato la nostra stessa nicchia di mercato di riferimento ok questo è un primo tema il secondo è che i competitor ci sono sempre quindi se il competitor non esiste ci sono due possibilità la prima è che non siete in grado voi di identificarlo e questa è diciamo almeno il 95% delle volte succede questo che non si è in grado proprio di identificare competitor proprio perché un competitor deve avere determinate caratteristiche non è banalmente cioè se io produco ad esempio un disco solo il competitor non è detto che sia solo colui che produce dei dischi solo perché magari se io qua adotto delle logiche di servizio si può complicare tanto se il mio disco serve a veicolare un progetto più a 360 gradi allora lì cambia l'approccio gli dai un vestito diverso e quindi cambia anche la dimensione del competitor entriamo al concetto di competitor in diretti ma ripeto qui si aprirebbe un mondo un capitolo incredibile e pian piano lo andremo ad affrontare quindi dicevo se non vi sono competitor o effettivamente non siamo in grado di identificarli oppure non esistono davvero se non esistono davvero però c'è un problema quasi sempre perché il problema significa che magari su quella roba lì non c'è mercato cioè banalmente se nessuno fa quella roba lì magari può significare tra le varie opzioni semplicemente che quella roba lì non monetizza perché perché magari non c'è mercato perché magari non c'è richiesta e quindi questo step è fortemente correlato a quello precedente e anche ovviamente l'analisi è correlata al primo quindi validare un'idea quando nel video precedente vi dicevo che può richiedere anche un processo in cui andiamo a ritarare la nostra idea ad evolverla a svilupparla a cambiare le sfumature i contorni la descrizione a livello di struttura è proprio questa perché magari noi arriviamo degli step in dei punti nevralgici che ci fanno riflettere e ci fanno capire che dobbiamo un attimo ritarare la nostra idea l'ultimo macro step è il progetto pilota facciamo un esempio io ho un'idea strutturata produrre il disco produrre il disco soul faccio un'analisi di mercato e mi rendo conto che mediante una serie di procedure mi rendo conto che vi è una richiesta diretta o indiretta del disco o diciamo del servizio magari che voglio erogare tramite la produzione del disco ok quindi o del prodotto stesso magari di un servizio che al suo interno contiene il prodotto riesco a identificare dei competitor vedo le loro caratteristiche vedo i loro punti di forza punti di ebolezza quindi scannerizzo il mercato dal punto di vista di quello che viene offerto dai competitor dico bene adesso la mia idea a mercato posso implementarla questa è una fase decisiva perché cosa succede che si pensa che magari una volta che l'idea di mostri del mercato si parte col progetto vero e proprio a 360 gradi dove è l'errore che il progetto vero e proprio richiede comunque dei tempi dei costi e una serie di parametri che hanno bisogno essi stessi di un'ulteriore validazione cioè a cosa serve il progetto pilota il progetto pilota serve a trasformare l'idea in una prima in un primo prototipo di progetto e vedere nel pratico se effettivamente questo progetto funziona e come quindi prima di arrivare a un progetto vero e proprio costruire un progetto che presenta come parametri un effort basso dal punto di vista sia dei tempi quindi tempi decisamente ridotti ad esempio se uno mi dice guarda voglio fare il progetto pilota per farlo serve un A, B, C, D è una serie di operazioni che comportano sei mesi un anno non è un progetto pilota è un progetto a tutti gli effetti ok quindi primo parametro tempi ridotti secondo parametro un effort dal punto di vista monetario i costi decisamente basso ok perché devo riuscire a creare un prototipo sostenibile ok quindi non serve tanto costruire un progetto ad hoc perfetto ma devo sostanzialmente vendere l'idea del progetto vero e proprio venderla come mediante un progetto pilota spesso il progetto pilota può essere anche un processo cioè un processo dove in realtà io non vado ad implementare sviluppare nulla di pratico ma semplicemente vado a ultimare la validazione dell'idea mediante la vendita di quell'idea stessa per esempio posso vendere un servizio che ancora non esiste ok e questo significa progetto pilota è una serie di caratteristiche ovviamente è una serie di parametri e chiude come macro step ovviamente parliamo di macro step perché ognuno di questi poi al suo interno richiede una serie di micro step procedurali questo progetto chiude la validazione dell'idea anche qui se volete approfondire uno dei quattro box capire innanzitutto come strutturali l'idea cosa significa fare analisi di mercato cosa comporta analisi dei competitor o come sviluppare un progetto pilota contattateci alla nostra email scrivete la nostra newsletter scriveteci anche per fissare una videoconsulenza col sottoscritto gratuita in cui vi spiegherò in dettaglio cosa si intende e in base al vostro progetto qual è l'effettivo punto di partenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti